ciao ragazzi e benvenuti a questo tutorial dove vi farò vedere come disattivare l'airbag passeggero della fiat panda ultimo modello questa per esempio è del 2019 dunque per agire sulla disattivazione dell'airbag che poi sarebbe questo questa spia qua dobbiamo andare a utilizzare questi tre tasti per esempio questo che è il set e ci permette di scorrere il menu e gli altri tasti che ci permettono di navigare ma andiamo subito a vedere clicchiamo una volta set per andare sul menu e clicchiamo la freccia verso l'alto fino ad andare a trovare bag passeggero che sarebbe l'airbag passeggero in questo caso una volta trovata questa voce clicchiamo set per confermare e come vedete sta lampeggiando in on clicchiamo un'altra volta la freccia su off per disattivarlo confermiamo con il tasto set ricchi clicchiamo la freccia nuovo e andiamo a confermare ok adesso l'airbag passeggero è stato disinserito lo possiamo leggere anche sul display e possiamo vedere anche che si è accesa la spia che indica che l'airbag del lato passeggero attualmente non funziona più quindi in caso di collisione non si aprirà per riattivarlo dobbiamo fare semplicemente il procedimento inverso ossia adesso io spengo il quadro e lo riaccendo naturalmente quando accendo il quadro l'airbag passeggero risulterà disattivato lo vedete è questa spia e riandiamo sul set che mi aprirà il menu clicco il tasto delle frecce bag passeggero riclicco set per aprire seleziono on confermo assolutamente sì riclicco set l'airbag passeggero è di nuovo inserito e infatti la spia adesso è spenta e questo è tutto se questo video vi è piaciuto come sempre cliccate un bel mi piace e iscrivetevi al canale perché inserirò costantemente nuovi video per oggi è tutto grazie alla prossima ciao a tutti